2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Taglio del nastro e via alla tre giorni della decima edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste, Università di Trieste, Italy Post, Immaginario Scientifico e Sissa. Take care, la scienza per il benessere sostenibile, questo è il tema dell'edizione 2021. È una decima edizione che festeggia anche i prossimi dieci anni, abbiamo scelto un titolo che è Take care, prendersi cura, la ricerca e la scienza per il benessere sostenibile, quindi è un po' una sintesi dei temi e delle tematiche che abbiamo affrontato in questi primi dieci anni di Trieste Next guardando al futuro, alimentazione, tutela delle risorse naturali, l'acqua, il mare, il cambiamento climatico, ma anche il nostro rapporto con l'intelligenza artificiale e le tecnologie, quindi un'occasione veramente per ragionare sul presente, che è quanto mai problematico, diciamolo così, in epoca pandemica, e guardare al futuro in un'ottica di sostenibilità. Ottanta gli eventi che andranno in scena, 300 i relatori e 50 gli spazi espositivi, dalle tematiche ambientali allo sviluppo tecnologico fino al benessere sostenibile. A Trieste Next c'è davvero spazio per tutti coloro che contribuiscono alla divulgazione scientifica, con progetti, lavori, studi e ricerche. Ma in modo particolare segnalo che l'area qui in piazza Unità d'Italia, che è alle mie spalle, è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno, quindi più che raddoppiati sono anche i programmi e le attività che si svolgeranno. Tutti gli enti di Trieste Città della Conoscenza sono qui e ci sono delle new entries, come si dice in gergo. Segnalo ad esempio la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, segnalo INAIL con una mano robotica molto curiosa da vedere, soprattutto lo stand dell'Agenzia Spaziale Europea con un tavolo interattivo che ci porterà alla scoperta del nostro pianeta e anche dello spazio.